All'Università d'Annunzio a Chieti il 24esimo congresso multidisciplinare di medicina di laboratorio. La Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare Clinica insieme all'Associazione Microbiologi Clinici Italiani con tale appuntamento annuale si pongono l'obiettivo di affrontare tematiche di diverse interesse. Come ci dice il professor Paolo Fazzi, delegato per la Regione Abruzza e Molise dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani, la più grande associazione del genere. Allora, questa 24esima edizione, che è un'edizione che dovrebbe essere stata la 25esima, ma l'anno scorso per ovvi motivi non si è potuto effettuare, ed è la 24esima edizione di un percorso congiunto iniziato ben 25 anni fa insieme ai biochimici. Io ho sempre rappresentato invece l'altra anima della medicina di laboratorio, cioè i microbiologi. E quest'anno l'AMGRI, quindi sottoscritto alla presidenza dell'evento, l'anno prossimo invece, che si spera si faccia in presenza, sarà invece il delegato dell'attuale della Sibio, che è la Società dei Biochimici, Ivana Cataldo, a essere la presidente e io sarò il vicepresidente. Per 24 anni, 24 edizioni, abbiamo fatto in questa maniera e abbiamo avuto la possibilità di invitare tutto il meglio della medicina di laboratorio in Italia. Anche quest'anno abbiamo fatto una sessione ieri di Biochimica Clinica, della quale magari parlerà dopo la dottoressa Cataldo, e quella attuale, che si sta concludendo, la giornata di oggi, che invece ho organizzato io e riguarda, ovviamente non poteva che riguardare Covid. Covid in tutte le sue sfaccettature. C'è stata la collega, grandissima Maria Capobianchi, che tutti quanti conoscono, che lavora, o meglio lavorava allo Spallanzani perché adesso è in pensione, ma è rientrata come dirigente scientifica, diciamo così, direttrice scientifica dello Spallanzani, la quale ci ha parlato dello stato dell'arte della diagnostica di laboratorio, della diagnostica virologica di Covid-19, è stata una bellissima relazione. Poi abbiamo avuto due relazioni, una tenuta dal collega Vincenzo Savini, che lavora con me nella microbiologia di Pescara, che ha parlato invece degli stati settici che si accompagnano purtroppo alla polmonite intestiziale, quindi ai casi gravi di Covid-19. E poi il carissimo amico, micologo, clinico come me, facciamo tutte e due parti del Comitato di Studi di Micologia dell'AMI, che anzi lui attualmente ne è il delegato, il rappresentante, che è il dottor Gianluigi Lombardi del Niguarda di Milano, che invece ha parlato delle micosi associate al Covid-19. E poi c'è l'ultima relazione, quella tenuta dal gruppo dei colleghi medici veterinari dello zoo profilattico di Teramo, che hanno fatto e stanno conducendo ancora delle ricerche importanti sui test di siero-neutralizzazione del virus e in parallelo con test convenzionali di serologia per Covid-19. La dottoressa Ivana Cataldo, delegato regionale Sibioc, ha parlato dell'importanza della medicina sul territorio. Noi come Sibioc ci stiamo impegnando molto sul discorso della medicina del territorio e io personalmente come dirigente della ASL 2 Lanciano Bastochieti sto cercando di impostare un progetto di laboratorio territoriale in cui è possibile raggiungere tutti quei piccoli ospedali che sono distribuiti in tutta la nostra regione per cui è un po' più difficile avere un laboratorio e magari anche difficile raggiungere. Quindi stiamo cercando di fare una rete territoriale, una rete di laboratorio territoriale proprio al servizio del cittadino perché i nostri concittadini che vivono in queste località di montagna dove ci sono dei piccoli presidi ma che comunque funzionano molto bene hanno sicuramente bisogno di un servizio, una medicina di laboratorio efficiente e che possa dare dei risultati e dei referti immediati per quei pazienti che si presentano proprio al pronto soccorso in una fase acuta. Quindi diciamo che sia la medicina di laboratorio come società ma anche noi come laboratoristi proprio in loco stiamo cercando di dare un input alla medicina territoriale che ha bisogno di un notevole sviluppo proprio perché si è rilevato non sufficiente a garantire diciamo l'assistenza a tutte le persone che sono sul nostro territorio. Maria Grazia Perilli, docente ordinario dell'Università degli Studi dell'Aquila in biochimica clinica e biologia molecolare clinica. Nell'ambito di questo importante congresso si è parlato di un tema altrettanto importante, quale? Sì, è quello dell'antibiotico resistenza che colpisce ovviamente moltissimi microorganismi che come ha spiegato precedentemente il dottor Fazzi si ritrovano in ambiente no-osocomiale e non soltanto ma possono diffondere con estrema facilità anche all'esterno, quindi in ambiente comunitario. Il nostro ruolo, quello del nostro laboratorio, è quello di effettuare una diagnostica molecolare che vada a studiare e quindi a indacare l'intero genoma di questi microorganismi per essere d'aiuto al laboratorio di microbiologia e anche ovviamente di aiuto al clinico che poi dovrà operare con una terapia adeguata. Si può pensare ad una rete con professionisti come voi? Sicuramente sì, anzi è necessaria una rete, non si può lavorare da soli ma bensì è l'unione che ci permette poi di raggiungere dei risultati che siano molto importanti dal punto di vista della ricerca ma anche della diagnostica. Professor Parruti, una giornata di studio all'insegna di quali tematiche? Allora, i microbiologi clinici ed infettivologi da sempre lavorano insieme per inquadrare le infezioni. Oggi il tema è stato la diagnosi, le metodiche diagnostiche e di controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 così come la diagnosi delle infezioni virali, batteriche e fungine che sono state osservate durante il corso dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle tre ondate epidemiche. Quindi è una giornata di riflessione molto interessante per cercare di mettere a punto il più possibile sia un'interpretazione di quello che è successo nei nostri pazienti sia degli strumenti efficaci di intervento mettendo insieme le nostre competenze.